Il mondo è in fiamme. Tutti noi sappiamo che limitandoci ai cambiamenti climatici e le loro disastrose conseguenze, l'allarmante espressione diviene letterale, giacché il mondo sta bruciando per davvero. Solo nel nostro paese si parla del 153% di incendi in più rispetto allo scorso anno, per non parlare delle conseguenziali ondate di calore con temperature record ovunque, dal polo nord al polo sud. Da cui, la domanda delle domande, il quesito maggiormente banale è divenuto addirittura noioso per alcuni, eppure di un'urgenza a dir poco eccezionale. Cosa possiamo fare, noi semplici cittadini? Qual è l'impatto dell'uomo medio, limitandoci a queste nostrane latitudini? In altre parole, in che modo ogni singola famiglia è in grado, se non altro, di ridurre il proprio personale contributo a un processo che ormai non può essere del tutto arrestato? Sono anni ormai che mi pongo tali fondamentali interrogativi e che a mia volta cerco di condividere con le persone con cui vivo, i miei cari, amici o anche solo conoscenti. Spesso ci si ritrova d'accordo, talvolta finisco per riscaldarmi eccessivamente e arrovellarmi, il che vista la contingenza non aiuta più di tanto. Ciò nonostante a suo tempo ho buttato giù il mio bravo manuale di bordo del viaggiatore coscienzioso nel grande cammino della vita, senza tirare in ballo il re leone, cercando di coinvolgere e convincere i miei familiari più stretti e chiunque altro a portata di articolo, pezzo, video, spettacolo o anche racconto se non aveva quanto preoccupata voce. Niente di speciale, roba nota di più tra coloro i quali hanno preso, a mio umile avviso, la necessaria decisione di trasformare il proprio modo di stare al mondo. Suddividendolo in 5 mosse, ripeto, straconosciute da tanti, potremmo semplificare il cambiamento così. 1. Mangiare meno o eliminare del tutto carne e latticini e, laddove sia possibile, acquistare cibo locale e che provenga da cicli produttivi a bassa o nulla emissione di carbonio. 2. Ridurre o eliminare l'uso dei trasporti con mezzi privati, con un'attenzione speciale al tipo di carburante e, sempre laddove sia possibile, evitare di prendere l'aereo. 3. Diminuire drasticamente l'utilizzo degli elettromestici e di ogni dispositivo elettrico, moderare la dispersione di energia per il scaldamento o il raffreddamento degli ambienti e il consumo dell'acqua. 4. Un'azione complessa e indispensabile in ulteriori tre mosse. Ridurre, riutilizzare e riciclare, facendo estrema attenzione a cosa ci occorre per davvero, a cosa buttiamo e a cosa invece possiamo conservare e rendere di nuovo utile. 5. Infine, un gesto essenziale, che molti tra coloro con cui mi sento di condividere sensibilità e intenzioni, sembrano sottovalutare. Cercare di comunicare al prossimo quanto tutto ciò sia indispensabile, iniziando dai propri figli e allargando il cerchio finché sia possibile farlo. E in questo, la rete, internet, è uno strumento prezioso. 6. Dico qualcosa di nuovo? Tutt'altro. Trattasi di storia vecchia, almeno per me. E come tanti, dopo una giornata cercando di seguire più o meno alla lettera il soggetto prontuario, guardo la temperatura salire. Inorridisco dinanzi al cielo farsi grigio per il fumo degli incendi e dopo l'ennesimo inquietante video con il ghiaccio degli iceberg che si scioglie come un triste pupazzo di neve morente, penso ai miei figli e mi angoscio per loro. Poi, come ho sempre fatto sin da quando ero un bambino, cerco rifugio, carezze e possibilmente risposte in una storiella. Come quella di una nave. Una nave che affonda perché qualcuno dei passeggeri ha pensato bene di bucarne lo scafo. E mentre taluni si dannano per tappare i fori e gettare l'acqua fuori bordo, altri, ancora, troppi continuano a danneggiare il legno della barca, può arrestarsene con le mani in mano senza fare nulla e non so cosa sia peggio. Beh, mi sbaglierò, ma forse non è più sufficiente darsi eco sostenibili pacche sulla spalla a vicenda dal vivo, digitalmente o artisticamente. Forse, se no con gli scansa fatiche è arrivato il momento di andare a parlare di persona con chi crea questi buchi. Magari proprio nel momento esatto o addirittura auspicabilmente un attimo prima. Magari Magari